Intensi controlli sul rispetto delle norme di contenimento della pandemia e il possesso della certificazione verde da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio del Bassanese. Nella giornata di ieri una barista 27enne di Marostica si è presa una doppia multa di 1000 euro in quanto sprovvista di Green Pass, la quale inoltre, alla vista delle forze dell'ordine, incitava l'unica cliente presente nel locale a scappare via, che a sua volta è stata multata con 400 euro. Sempre nella giornata di ieri la polizia ha staccato una doppia multa per il titolare e il dipendente di una concessionaria del Bassanese in quanto sprovvisti di Green Pass.